Riprendiamo la nostra campagna di Doom. Capito. Mi sto separando dai sistemi della nave. Elaboro. Trasferimento a unità esterna completato. Capito. Ora Vega non è più connesso alla tua nave. Sarò io a configurarti il portale per Necravall. Pensi che non ti serva nient'altro prima di incominciare il nostro viaggio su Urdak? Non potrai tornare qui fino alla fine della missione? Ultima occasione. Questa è stata l'ottima possibilità di bloccare oggetti ed esplorare la fortezza. Prima o tardiamo la tua missione. Appena sei pronto ad andare. Configuro il teletrasporto. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa possiamo recuperare con le batterie delle sentimenti. C'è qualcosa interessante. Allora. C'è un altro gettone per l'armatura Praetor. Prendiamolo. Abbiamo sette. Allora. Uno. e due. Poi abbiamo qui un altro gettone e qui una mod. Prendiamo quanti gettone abbiamo noi due. Per l'armatura. Se ne servono quattro. Lo scatto si ricarica alle uccisioni epiche. Questo era quello lì. E quello delle granate. Qui oggi ne. Va bene. Mod sulle armi. Possiamo prendere quella di Peril. Sennò cosa c'è. Aspetta. Vediamo cosa c'è. Questa la prendiamo sicuramente che è un cristallo. Uno. E due. Questo ci aumenta la colazza. Finché la salute al massimo tutti i rifornimenti di salute contribuiscono a pugno di sangue. avere più colazza. Questo ci dà le munizioni al massimo. Finiamo questo. La salute. Sì. Bisogna finire prima la colazza per toccare la salute. Va bene. Poi. Qui accanto l'abbiamo preso. Sotto c'è qualcosa a parte. No si muore e basta. Va bene. Credevo si potesse fare qualcosa di solito. Invece no. Poi. Di qua si esce. Qua sopra c'è qualcosa. No quella era una skin che abbiamo preso. A questo punto prendiamo la mod vai. No. No abbiamo gettoni. Tre. Prendiamo questo. Ora possiamo iniziare il viaggio. Tanto abbiamo solo il gettone. Qua non ci facciamo più niente. Qua ci siamo passati ieri. C'era. Tutte le cose che abbiamo trovato. Statuine. Le nostre armi. Sotto magari dai. Senza perdere. Altro tempo. Un po'. Teletrasportati a nevra. Mollo. L'energia Argent è sintetizzata dalle anime delle vittime dell'inferno. Questa qui è la fabbrica dove viene prodotta. Magravol. La città dei dannati. La prima cosa. Ok. Ora si. Vediamo tutti i ciclini. Tutte le cose. Perfetto. 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 tarichiamo pugno rompiamo la colaccia lui c'era il segreto però a buono subito un cristallo ammettiamo la salute a massimo otteniamo questo ci mancano gli ultimi due ma è che ci fa aggrappare no vero? no dobbiamo proseguire di qua andiamo no va bene appena ti alzi io salto vado ok però è morto è morto qualche segreto subito qui in zona, no di là di fronte va bene ed era sopra qua c'è una boss fight adesso abbiamo anche la nostra spada insieme Mi servito Faccio more, non faccio più Funziona Massa lui Dai un po' di amore Dai un po' di amore Dai un po' di amore Grazie E questa è andata Corazzo in giro qualcosa, no? Vediamo adesso Ottimo Però lì c'è No No Quei gli umani arrivano dalla terra in attesa di essere scelti per il processo No 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 usciamo da qui ma la roba a tempo mi devo muovere vabbè se sarei là solo ho vinto solo una tannica di benzina vediamo se è solo quello o se è più l'altro alla cam maigr servono la terra e le sue anime il suo mondo sta morendo il racconto consente alla sua gente di rifornirsi di risorse e sopravvivere se tu salvi il tuo mondo metti a rischio il suo più avanti c'è Calibas il giudice cieco è lui che decide chi va dal processo di estrazione dell'anima mentre il resto viene gettato nelle paludi del sangue le paludi del sangue lui è giudice cieco Calibasso c'è raggiunto la voce al codex la voce al la voce al Grazie a tutti. Oh, cioè va bene, dobbiamo giocciare qui, perfetto. Due andate. No, questa no. No, no, no. Ok, ci siamo morti e abbiamo preso una vita. Dai, non ti sfossavo ogni mezzo di secondo, madonna. Lo scudo è abbassato. Forza, è esposto è il momento. Ci siamo quasi morti, ci devo ammazzare quello per recuperare un po' di salute. Ma lo stiamo danneggiando? No, non ti sfossavo mai. E qua è rutto le... Fanno ammazzare questo, li già non lo faccio molto più. è andato armatura, gettone l'automappa là c'è andate di là sotto non c'era nulla l'acqua non c'è nulla non c'è l' VIDEO e c'è Grazie a tutti. Ah va bene, si abbassava solo per darci una mano a sconfiggere i demoni. Prendiamo un altro gettone per l'armatura Praetor. Poi c'era la tua mappa, perfetta. Dove c'è la tua mappa, c'è un segreto, però il cancello è chiuso. Non aspettiamo tanto tempo alla fine. Va bene, là di fronte. No. 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 Perché... Ah se... che è un puno grazie mica poi in mezzo ok dov'è quello che li potenzia? ecco di qua no al lui mi rivedete sto ammazzato ancora me no dai cioè veramente si bugga tutto tutto scudo non mi so faria vedete qua passare qua sotto non ci va sotto eh vabbè abbiamo perso una sola visita qua va bene così dobbiamo proseguire per di là no 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 non muore subito recuperiamo la vita che abbiamo perso ne abbiamo perso anche di qualcuna forse quando abbiamo iniziato ne avevo qualcuna in più se non ho visto male poi lì abbiamo era quel segreto che non so come ci arrivava ne abbiamo perso la tua mappa ma niente andiamo avanti qua di là ok poi gli umani vengono torturati la carne intenerita raggiunta la giusta soglia di dolore lo spirito si affrange e l'anima è pronta per il processo di estrazione e l'anima è pronta per il processo di estrazione ok non c'è nulla di là non siamo andati a nessuna parte lì cancello è chiuso questo qua dobbiamo andare qua dov'è quello che li potenziarsi dai? c'è un totem c'è io c'è totem là sopra c'è un totem c'è un totem lì c'è molto un po' di un po' combatti per attraversare la fabbrica di armi vabbè allora qua si arriva da qualsiasa parte se lì ci siamo stati l'acqua così va bene andiamo a grappaccia al muro e andare di qua alla fine a terra questo teschio qua quindi ho aperto questo cancello abbiamo aperto una parte va bene l'altra è di qua l'altra è di qua è di qua è di qua Ponte sta compilando Ma non c'è ma covane Grazie a tutti. Grazie. E' andato anche lui. Il cancello l'abbiamo aperto, va bene. Alimenta la fiamma eterna, partiamo. Il cancello l'abbiamo aperto. 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 L'abbiamo aperto. L'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. L'abbiamo aperto. l'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. l'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. l'abbiamo aperto. L'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. Il cancello l'abbiamo aperto. 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 L'abbiamo aperto.